buongiorno sono luisi di eredamenti meneghello e oggi vi spiegherò quali tipi di schienali si possono creare nelle vostre cucine questa cucina è fantastica perché è caratterizzata da uno schienale effetto pietra in continuità con il piano e questo dona alla cucina grande design parlando di design vorrei soffermarmi anche su questo dettaglio che è una boiserie caratterizzata da delle mensole in metallo sfalsate lo stesso effetto lo possiamo fare anche con tipi di materiali diverso in questo caso troviamo un piano in quarzo con lo schienale appunto in quarzo gli schienali delle cucine possono essere fatti anche con delle carte da parati dove potete scegliere appunto qualsiasi tipo di serigrafia in questo caso qua abbiamo anche la carta da parati magnetica il grande vantaggio di questo schienale è la versatilità di poter spostare i vari accessori da un punto all'altro vi faccio vedere nel caso in cui non si voglia utilizzare nessuna delle soluzioni appena menzionate per gli schienali della cucina rimane ancora molto valida la soluzione delle piastrelle questo è un altro esempio di schienale con piastrelle inserito in un contesto classico vi aspettiamo da Reddamenti Meneghello per vedere questo e altri tipi di schienali mi raccomando siamo aperti fino alle 22 prendete appuntamento